Buongiorno a Boghiera, nel castello di Berriguardo, per questo piacevole incontro con una tesi di lauree, di lauree che non è una cosa consuetissima, però succede anche questo. Poi a Berriguardo può succedere di tutto, perché Berriguardo, come diciamo noi, è un agito. E questa sala forse lo è ancora di più in modo particolare. Comunque grazie di essere venuti numerosi, ringrazio Francesco Legili e la sorella che sono qui presenti, e il professor Cusini, naturalmente Ariane Fondosani, che è l'autrice del lavoro che viene presentato oggi. È stato presentato felicemente in sede universitaria, quindi prima di questo lavoro non era dottoressa, adesso è dottoressa. Qualcosa vuol dire che è combinato di buono. Qualcosina, dai. Io non vi parlerò di Berriguardo perché lo faranno diffusamente quelli che sono a mio fianco. Voglio solo portare il saluto e il ringraziamento del sindaco di Gogliera, Claudio Fioresi. Io sono vice sindaco, assessor alla cultura. Vi dico quello che succederà come programma della giornata. Praticamente, dopo di me ci sarà l'intervento di Francesco Legili, quindi del professor Cusini, relatore della tesi, e Ariane ci presenterà il suo lavoro. Dopo le chiacchiere, naturalmente, che siamo stanchi, abbiamo sete, andremo a fare un piccolo break nel corpo centrale di Berriguardo, così avete occasione di vedere anche una parte nuova, recentemente restaurata, di questa delizia, che oggi è adibita a sala, riunioni e conferenze. Oggi straordinariamente sarà adibita a qualcos'altro. Penso che potremo sopportare. Dopodiché, sarà possibile, con la guida di Ariane, andare a visitare la sala di Ogili, che è nel primo piano della torre. Siete passati sotto la sala di Ogili, entrando alla complessa. Quindi, nel corso, durante l'infresco e anche dopo, Ariane sarà nella sala, a disposizione di chi vorrà ad esitare, la sala di Ogili. Sala di Ogili, che è presente qui nel complesso di Berriguardo, nel 1983, 1993, nel 1993, sì, 1993, io non ero ancora assessore. E che è stata fatta proprio per vendere omaggio a uno dei figli più illustri della nostra terra, Regilio di Boghiera, ha lavorato per 40 anni ad altissimi livelli, ha avuto stuoli di discepoli, che oggi sono quasi tutti professori o dosso-dossi, quindi vuol dire che è anche un bravo maestro, e le sue opere stanno circolando un po' di ovunque, moltissime sono anche ancora a casa, tra la famiglia. E grazie alla famiglia che noi abbiamo potuto aprire la mostra permanente di Giuseppe Leggile nel 1993 appunto, qui a Berriguardo. mostra che speriamo anche in un futuro di implementare, individuando un altro ambiente ancora più vasto di quello di oggi, potremo probabilmente nei prossimi anni pensare anche a un'opera di ampliamento della collezione permanente di Leggile come disponibilità naturalmente della famiglia. E, oltre alla famiglia, un altro grosso ringraziamento noi lo dobbiamo al Comune di Ferrara, perché alcune delle opere che sono in esposizione più agoniera sono di proprietà del Comune di Ferrara. Erano alla collezione di arte moderna, non sono fatte la collezione di arte moderna del Comune di Ferrara, e ce le hanno dato in prestito a tempo indeterminato. Non ne vediamo più, quindi non c'è nessun problema. Ecco, detto questo, io vi ringrazio ancora una volta e do sicuramente la parola a Francesco Lunti. Grazie. Ovviamente il mio ringraziamento a tutti voi che avete voluto oggi partecipare a questa festa. È una festa in memoria del costruttore, ma è una festa per me, ed è una festa per Ottolino, una festa per Fusini, e una festa per Ariane. È una festa per noi che abbiamo lavorato in questi mesi alle opere di Virgivi, scandagliando, ridolandole dove erano presso i privati, presso anche strutture pubbliche, e quindi abbiamo costruito un catalogo che rappresenta poi la tesi di Ariane. Quindi, un grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza qui aver riguardo posto in cadere. È un ringraziamento particolare, è un abbraccio fortissimo a Ottolino Bacini, perché è l'unico rappresentante di un ente locale nella nostra provincia che ha tenuto via la memoria delle strutture virgivi. È l'unico che ha negli anni 90 costruito quella vincola sala espositiva dove abbiamo raccolto opere nostre e opere che il comune di Ferrara ha prestato, perché voi dovete sapere che la nostra donazione al comune di Ferrara è la vincolata, ed è tutta vincolata, ad una sala espositiva virgivi. la proposta non si è mai realizzata. La realizziamo per riguardo poco importa, per riguardo non è una delizia ma è una regge quasi pari al nostro castello, perché qui gli estensi passavano mesi qui al riguardo e quindi un grazie fortissimo a Ottolino Bacini. Ecco, un paio di comunicazioni. La prima è riguardo appunto quello che prima Notolino diceva ingrandire la sala e portarla anche soprattutto ad un livello più agibile, perché se una ha la gamba un po' ramata fa fatica ad arrivare su alla sala virgivi. Quindi ci comunichiamo formalmente, ti faremo avere una nostra nota. Io e mia sorella abbiamo convenuto se il municipio di Ferrara non darà opere, noi forniremo dieci sculture e quindici disegni per l'allargamento della sala virgivi. questa è la seconda comunicazione la seconda comunicazione riguarda Arianna che oggi chiude un ciclo e domattina ne ha un altro sempre subito subito perché è pronto in agosto. abbiamo come venuto abbiamo programmato con Arianna la redazione di un volume che parte dalla tesi ma non è più la tesi un volume ovviamente firmato Arianna Farnasari sullo scultore di abbiamo già individuato la casa editrice e quindi per agosto pensiamo che in agosto perché agosto perché sono 120 anni dalla nascita del palma quindi pensiamo in agosto di avere pronta questa stampa questa è la seconda comunicazione la terza è una notazione un po' curiosa nella intervista di ieri mattina con la Daria Mininati che si è volta alla Marfisa a un certo punto la Daria chiede ad Arianna se la dimensione di Virgili era una dimensione locale oppure nazionale Arianna ha risposto che non solo era nazionale ma addirittura internazionale e io vi dico questa vi do questa notizia nel 98 prima che prima dell'estate il papà era veramente malato quindi era fermo a casa Franco Farina inaugura ai diamanti una grandissima mostra sull'enato Lutus con dei quadri stupendi mio padre mi prega di andare all'inaugurazione e di tornare a casa e di raccontare ciò che avevo visto è avvenuto arrivato a casa dopo Cicino mi ha raccontato la storia e lui mirava molto Lutus dice Lutus è un grande ma anch'io sono un grande e mi ha fatto una rilegazione che secondo me era fatta perché era ammalato se fosse stato sano non aveva mai detto queste cose lui mi disse guarda Franco che in Italia io sono il terzo come il terzo si dice il primo è Martini il secondo è Manzù il terzo sono due questa era la sua opinione ma la sua opinione la sua ragazza l'ha fatto che i vari mascherini greco eccetera per i prefattini gli aveva battuti tutti nel concorso per la danzatrice dell'Accademia Nazionale di Danza a Roma ecco io l'episodio della domanda della Dalia mi ha fatto venire in mente questa storia di mio padre lui si riteneva in Italia il terzo scultore italiano ecco io ho finito ringrazio veramente tutti voi di essere qui con noi a festeggiare ancora lo scultore Giuseppe comunicazioni che si è fatta prima quindi che impegna in comune all'avariare l'attore non lo possiamo allargare l'attore di riguardo credo che è così dal 1400 dobbiamo dobbiamo lasciarne così però cosa è impegnante trovare uno spazio più ampio per trasferire la commuzione di reggisi al piano terra magari nella sala proprio qui accanto che vogliamo in una sala lì è stata recentemente recuperata anche questa perché magari molti non lo sanno molti neanche me lo chiedono quando vengono visitare del riguardo metà di quel riguardo circa è pubblica ma metà è ancora privata del riguardo praticamente è un condominio qui abitano 22 famiglie e ogni famiglia è padrone della propria casa così come il comune è padrone degli altri ambienti quindi è un condominio atipico da Roma è un condominio doveva morare noi oggi siamo ospiti anche in casa di altri non solo in casa del comune quindi quegli ambienti che abbiamo recuperato poi sono ormai tutti ad uso pubblico e anche quella sala di eccente io si rado dall'amministrazione comunale perché ci sono le elezioni a breve ma anche da fuori continuerò la battaglia per tutto sicuramente non lo dimenticherei bevi Otto bevi e grazie anche per l'altra comunicazione che ci fai quella che conoscevo già questa non lo sapevo ma questo del volume in parte la conoscevo anche perché io ti ribadisco una collaborazione da parte dell'associazione locale che volentieri contribuirà alle spese di pubblicazione quindi faremo una joint event una roba di genere detto questo diamo sicuramente la prova al professor Fusini che ci dirà quello che è il sessore grazie alla famiglia di Gili grazie ad Arianna a voi tutti che siete qui è sempre molto bello vedere molte persone così legate e appassionate al proprio territorio e alle proprie glorie passate e un po' meno passate nella persona del suo papà che è stato certamente uno scultore un artista di grandissimo livello io lo conoscevo solamente quasi di nome devo dire poi quando Arianna venne io devo dire che nel parto della tesi sono stato solo lo stecrico cioè soprattutto il merito è naturalmente di Arianna quando venne già parecchio tempo prima da diligente studentessa per tempo e non di quelle che vengono sapete professore vorrei laurearmi fra due mesi dico guardi adesso aspettiamo vediamo insomma ecco devo dire io apprezzai subito la sua iniziativa soprattutto perché si trattava di uno studio legato al territorio e è necessario veramente conoscere e valorizzare e studiare gli aspetti più vicini se vogliamo è vero che l'arte è di tutti è vero che siamo nel glocal locale globale ma è anche vero che uno scultore dalla produzione così importante e copiosa come Virgili aveva bisogno di uno studio di una sistemazione di un catalogo e non solo di un catalogo certamente ragionato e naturalmente rafforzato da una critica matura come quella di Arianna che ha consentito di cambiare l'adattazione di alcune opere di spostare insomma alcune cose di ottimizzare per così dire quella che è stata la carriera di questo artista così importante devo dire che è sempre stata non è che voglio fare della piageria ma ripeto io qui sono solamente quello che ha portato Arianna alla laurea tutto il merito è stato naturalmente suo che è stato naturalmente lei così ben sostenuta dalla famiglia dall'assessore e da quanti in un qualche modo conoscevano l'opera di Virgili devo dire che non ho dovuto correggere l'italiano cosa che purtroppo nelle tesi attuali è piuttosto frequente si va molto di copia e colla e lo si andava e si facesse almeno un copia e colla buono si fa anche un copia e colla fatto male quindi lasciamo perdere ecco e quindi io in questo modo ho conosciuto meglio più approfonditamente l'opera di uno scultore sempre aggiornato sempre attento a quello che succedeva mai indietro ma sempre perfettamente in consonanza con le grandi trasformazioni dell'arte di questo secolo insomma lui nasce ecoetaneo dei grandi artisti delle avanguardie delle post subito dopo le avanguardie quindi come tale interpreta benissimo poi insomma Ferrara è un luogo nel passato remoto nel passato più vicino mi riferisco alla metafisica eccetera è luogo senz'altro insomma votato e quindi insomma forse ci sono delle energie misteriose che non conosciamo che filologicamente e filologico è stato il lavoro di Arianna non si possono interpretare ma che hanno la loro importanza quindi onore al merito io ho già finito ringrazio ancora tutti e sentiamo il lavoro di Arianna di cui mi compiaccio anche per gli sviluppi che il signor Virgili ha annunciato grazie grazie a tutti grazie per essere qui così numerosi ringrazio anche il notore presidente a me che posso definire sia amici che con lei adesso quasi dunque l'immagine che vedete le vostre sparte è di fili quindi per chi non avessi magari non avessi mai visto è tratto da una piatura che è un quotidiano specifico diciamo ci dà l'idea appunto di lui come uomo di lui come artista e alcune delle sue opere quindi è un po' un consumo di quello di cui andiamo a parlare a te principalmente per l'apertura di questa conferenza vorrei farvi vedere un piccolo estratto che riguarda appunto Giuseppe che ormai è tratto talmente in convivenza che posso quasi chiamarlo papà come l'ho chiamato fino adesso lo secondo papà e vi faccio vedere un brano tratto da Alfilò con documentale di forestana mancini da partire nel 1953 su questo circolo artistico fedalese in cui appunto faceva parte di Reggini ma non riguardava solo artisti quindi era una cosa molto più ampia che però purtroppo è morta diciamo quasi subito per varie problematiche che è fatto tempo brava a nascere questo bellissimo documentario lo trovate tranquillamente anche in internet perché qui non lo volesse cioè non lo volesse visto lo potesse averlo magari sotto mano perché come vi faccio vedere adesso un attimo solo a Reggini ho dedicato una scheda di Wikipedia quindi partiamo scuso dalle nuove tecnologie diciamo quindi internet youtube cose che sono mai a portata di tutti e che dovrebbero essere sempre a portata di tutti perché i libri sono sempre strumenti molto importanti ma secondo me serve molto anche la nuova tecnologia per avvicinare il pubblico ancora maggiore voi li trovate online digitandolo su google Giuseppe Reggini su poi riesce come primo risultato quindi questa è una grande soddisfazione per me visto che prima avevo Reggini presente Giuseppe e anche omane ve lo faccio adoro ecco tanto per dire dell'importanza che si può dare a queste cose quindi è stata la prima a fare questa scheda non in che contesi perché purtroppo il lavoro era tanto dovevo tagliare un po' le cose ma l'ho fatto appena dopo e quindi potete trovare questo e adesso sto facendo anche la scheda sul PIO quindi a breve dovreste trovare una male completa perché sono sempre in fase di aggiornamento con nuovi conti il che dimostra che la licenza non finisce mai perché anche il primo interministratore di wikipedia hanno dato anche altri documenti che non avevo riuscito a ottenere quindi la licenza non si è assolutamente conclusa anche forse è solo un ulteriore rispunto vi faccio vedere questo brevissimo filmato sono poco meno di un minuto e poi ritroviamo quando l'opera vede più ecco come avete visto appunto è molto molto breve però già far vedere un'opera che perché ha visto anche la pagina della conferenza che si sente qua e qua se non abbiate visto è un'opera che ha vinto il concorso come dicevano prima a Roma nel 1950 e è presente qui nella vostra interacotta nella sala di giri che vi avete potuto di vederlo successivamente il giri è importante soprattutto come dicevano anche Francesco e Torino in mezzo assolutamente nazionale ci sono i bozzetti scusate è la prima conferenza quindi poi non ciò si può sbagliarlo per forza a livello del retoriale in Porta anche come dicevano prima di Goghiera lui invece il primo volumente paguiti che è quello che ho trovato in questa cartolina d'epoca a sinistra è stato usato per dare vedendolo alla patria quindi già in importanza proprio nei primi tempi dei volumenti questo invece è quello il secondo che ha fatto che è ancora visibile se tornate magari verso Ferrara fate una piccola svolta perché lo trovate subito prima della strada principale per andare verso casa e questo è quello che è ancora visibile nei stessi anni poi sempre riguardo agli elementi traduti c'è anche quello dell'avventura di Bergato nel 1924 vicino a Bologna e siamo un architetto ci sono anche le scelature online sul sito dei beni culturali perché volesse adentrarsi in una seconda ricerca un po' più approfondita e quindi questo dimostra quanto lui già all'inizio della carriera che diciamo che è iniziato intorno agli anni professore all'ostodossi inizi la carriera anche con un archista alcuni di già degli anni venti e l'ho già riconosciuto a livello nazionale proprio per importanza di questi concorsi limiti ricordando come è proprio avanti appunto quello della ballerina con cui si è chiuso il documentario filofilo e lì vi consentì a contare molto ricco come diceva Francesco che era un 500 milie e quindi negli anni 50 sono una bella cifra e il suo stile cambiò poi cambiò poi molto ecco una delle opere che avete nella vostra spalla scusate e nel 1955 con un po' la sintesi dello stile che affureva appunto i dirigenti lui fu sempre elegante nelle sue cambiamenti di stile non piace mai dei movimenti topbrusti dall'osti dell'alto ma compagna bene o male sempre un percorso stilistico molto elegante quindi non scende mai nella banalità ma riesce sempre a rinnovarsi e quest'opera che è esposta anche a Ferrara purtroppo al momento non è possibile perché il museo è chiuso sui bottini di Vessauro è stata esposta anche negli anni 1961 in Francia quindi il discorso che facevamo prima sul percorso internazionale questa foto qui rappresentativa ecco sia per il suo stile degli anni 50 sia per l'importanza che aveva negli anni 60 nelle organizzazioni che faceva con gli altri suoi colleghi pittori struttori ferraresi che era proprio un gruppo di ferraresi che si spostava tra Germania Francia persino e Russia di Israele espose moltissimo appunto all'estero oltre a scuola e molto anche in Italia perché come possiamo anche ricordare nel concorso che io come diceva prima Francesco Bartò 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 è stato forse un po' francesissimo con Bartò 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 è dei dei colleghi molto più famosi all'epoca quindi si può dire tranquillamente che anche questa foto con la ballerina russa fatta la cadena di Roma a questo ritaglio l'epoca che mi ha concesso con Siesco come si ricorda anche nella tesi e mi piaceva molto anche se dire nel vino perché è molto bello sono il verzo da Baren mostra appunto la ballerina che inizia la danzatrice sotto nella stessa identica cosa e questo è pronto quindi una delle vicende anche successive alla tesi perché come dicevo la cosa sono molto tagliare per una mananza di tempo è stato anche cercare dall'academia della danza di Roma di avere dei documenti che comprovino questa presenza nell'accademia e magari delle cose ulteriori che possono sempre essere carine da trovare a livello di documentazione oggi sotto abbiamo un quadro completo sia del percorso professionale successivamente uno dei lavori fatti appunto con la famiglia oltre ad aver preso tutta la documentazione privata quindi sia disegni che opere sculture bozzetti è proceduta anche nel poter trovare delle foto che sono uscite diciamo un po' dopo la tesi e ci ha fatto il processo di vedere anche delle metodi di lavorazione che prima non avevano almeno posizione fotografica quantomeno qui trovate la deposizione delle ultime opere degli anni 60 che parecimente è di ispirazione di vista anche se andamento perché chi la nota magari riprende la forma della deposizione classica dimostra però uno dei metodi di lavorazione di dirigente una delle cose più importanti che abbiamo scoperto in questo lavoro è stata la produzione e per produzione non lo intendo da un'altra lingua intendo troppo la produzione dal punto di vista di stracolare le informazioni tecniche a questi maroscritti che lui ci ha lasciato e si vede appunto la descrizione dal pre al dopo opera che è questa che attualmente è in casa della famiglia in casa di Francesco si vede benissimo la lavorazione quindi l'altra è nel che ne ho però comunque si può vedere già una differenza in particolare nella lavorazione stessa questo è stato senza appunto di darci una traccia anche di conferma su una più di lavorazione perché alcune per chi magari ha già letto il catalogo precedente a quello che uscirà a breve quindi tra agosto sa che comunque le patinature di dirigere era una delle cose principali del suo lavoro quindi le consentivano di dare una patinatura delle opere straordinaria che era sostanzialmente esclusiva e uno di questi soggetti io farei un'intervista un po' al pubblico perché non conosce la risposta di dirmi secondo voi di che materiale si tratta se qualcuno vuole azzardare una risposta perché non sapete la risposta però se qualcuno vuole nessuno si è andato bronzo bronzo un altro abbiamo bronzo l'arra almeno tre della porta poi ferro ferro quindi bronzo della porta ferro per tutti i punti hanno telefonato per dare aiuto da casa secondo me sì se qualcuno da casa può dare una risposta magari va benissimo è adesso che non ha detto nessuno e nessuno l'ha proprio imaginato gesso patinato gesso patinato la differenza tra la foto precedente e la faccio rivedere che è questa che poi vedete anche nella sala di fili perché è una delle opere più belle e abbiamo anche la fortuna di avere la propria portata di male di occhi soprattutto è una foto che abbiamo trovato dopo il lavoro della tesi che dimostra lo stato dell'opera prima quindi in questa base di gesso della soluzione del 1957 potete vedere come dalla base siamo partiti ad avere questa quindi ha tolto tutto con il seghetto la parte centrale l'ha limato l'ha perfezionato secondo me probabilmente forse è anche caduta la testa perché la testa è un po' piccolina ma ne lo concediamo insomma non è un dettaglio principale e vediamo appunto che questa anche questa è una sala della sala che la vedremo dopo la lavorazione della questa patinatura di gesso che lo porta a sembrare assolutamente metallo magari un po' preso dal tempo però metallo e questa è una delle cose principali delle sue lavorazioni quindi è assolutamente eccezionale questa è interessante questa è interessante questa è però approfondita mi sono posta di rileggere tutti i manoscritti lasciati da Giuseppe perché anche il figlio ha un po' di difficoltà tra loro nella scrittura perché è un po' di vicinota però ho qualche amico chimico magari mi faccio da loro e una delle lavorazioni le altre lavorazioni che faccio da Terracotta è una delle sue delle sue diciamo specialità perché questa è una cosa che Eva Cornela del 1953 fosse la Biennale perché a livello nazionale inoltre se ne conosce di questo ma molto viene anche invitato molto viene invitato da Biennale viene invitato anche alla quadernale di Roma quindi era anche riconosciuto a livello accademico non solo artistico Eva Cornela si narra perché me la giù una voce me la conferma anche Francesco che è la coperta la tenuta coperta per tantissimo tempo perché secondo l'un'opera non era mai finita e quest'opera mi è finita ricorda tanto quanto l'influenza di Michelangelo sul cuore dell'inoscimento in Italia ci può dare perché lui ha finito una fuori delle sue prelogative insomma di non poter finire chi non vuole finire un'opera o comunque di non riportare la mia conclusa quindi le giri da un po' prima per non averci semato quando è tutto completa le spose le donne le donne le donne 4 anni 4 anni 4 anni mi sembra 4 anni ed è confermato anche da Valieri per il nostro collega che è un'altra pista che è un piacere riconoscere in questo percorso quindi sicuramente sono delle caratteristiche che vanno approfondite che vanno assolutamente valutate in totale perché comunque è la sua specifica principale vi faccio vedere anche un'altra cosa che secondo me è molto interessante che è una delle opere privati che ne ho riscontrate in questo percorso perché partendo da questi intercattamenti principali che erano quelli dell'89 per l'apertura della sala del 93 e quello del 68 che è stata la prima pubblicazione principale sui giri per il cenale della morte fatta a pasta dei diamanti c'erano di mantenere delle opere che però qualcosa non tornava non trovava un'opera non si stanno come le dovere quindi con Francesco ci siamo messi a diciamo disumare tutti i possibili privati che avevano le opere le opere in casa quindi per fortuna dove ancora tutti i contatti stiamo riusciti a chiamarli tutti ci siamo fatti il nostro bel giro per riuscire a recuperarli dove invece le opere ovviamente non avevano testimonianza fotografica abbiamo provato perché qualcosa si è andato fuori quindi anche dopo e questo è un miniatore del 1946 di collezione privata che è bellissimo abbiamo trovato anche qualche lavoro negli attuali che sono condicate nel sistemare tutto quanto meglio poteva perché comunque era un'opera abbastanza italica quindi tutti i lavori che c'erano tutte queste opere avevano comunque delle caratteristiche simili ma non tutte ma aveva una piccola differenza di qualche centimetro poteva annullare del tutto l'ipotesi che fosse quella dell'opera ritrovata come poteva anche a confermarlo quindi questa è sicuramente una delle opere più belle diciamo a livello di collezione privata altri documenti invece li abbiamo trovati questo grazie a Polo che adesso a momento è un po' Leopoldo Santini un altro personaggio dalla memoria assolutamente fantastica che mi ha aiutato nella ricerca e che mi hanno insegnato questo articolo che si tratta veramente di un piccolo di un piccolo ritaglio che conferma una delle terze di giovani che attualmente è a casa di Anna non ero l'ennesima terza di giovani di ragazze perché il regime cambiava anche spesso in una delle proprie opere quindi ci sono trovati con tantissime opere oltre senza nome senza sapere dove potessero essere ma che invece vengono confermate da documenti come questi in modo di trovare le altre che ci possano dare un rispondo che sono invece le terze di giovani di ragazze di corte di prima quindi l'esposizione è fatta negli anni successivi non sempre di un'opera di quell'anno ma possono essere opere anche come l'abbiamo citato prima e invece era stata rimaneggiata è stata presentata qualche anno dopo ecco insieme a tutte le opere perché creiamo oltre le opere ovviamente che erano di su degli occhi di tutti come quelle dei musei o come quelle della famiglia o come le opere diciamo più giornali che sono quelle o per domenica come l'islamma dell'asilo perché voi lo vedete tornate verso Perlada o altre cose che hanno avuto sono invece semplice di un'opera queste invece ci tengo particolarmente a quest'opera è un'altra opera che abbiamo potuto aggiungere nella collezione perché è un'opera di nuova fusione dalla terra corta del pozzetto Francesco insieme alle altre due opere che avevano la prima casa ne ha creato una nuova fusione di rosa e questa è l'attuto di Europa nel 1955 l'unica differenza che ha con quella che è stata acquistata dall'usario in Germania di Heimler perché abbiamo anche un'opera di Heimler che è anche quella che ha detto le cose da riuscire a confermare se effettivamente ancora va o no è un conto marcante sostanzialmente non si vede se uno non conosce nessuno le due opere non riesce neanche quasi a sapere la differenza il conto sinistro è marcante questo perché si era voluto probabilmente nel tempo ma non manca niente non perde niente nell'impatto della struttura che secondo me è qualcosa di meraviglioso perché è proprio una pratica vita non mi sento soprattutto di Laura se non ho segno d'amore a questo non può essere inventato è molto bello e un altro passaggio invece fatto durante il lavoro della tesi è stato anche un piccolo riorno delle collezioni dei musei di Tadale e qui abbiamo l'inferno che è parte un pennale insieme alla soluzione che avete visto prima questo è invece tronzo quindi non ci sono gli anni di altro genere è una versione leggeramente più fallata ma solo per le bollicine che avete tirato sinistra l'altra collezione che c'è la famiglia della BG e questa è una delle opere che speriamo di vedere insomma avrete che è un'epertura del museo e ci sono infatti anche tanti elementi questo è uno dei più belli della collezione Tupi che è un bascordio pieno che raccolta del santo Pobona che era protettore dei sarti è una delle opere che ci pregiamo di aver inserito come inedito insieme alla pastatuina piccolina del sarto ed è sicuramente un unico comunque che ha fatto il bascordio di Ebro che aveva affrontato diverse note già dei primi anni di Caillera fino agli ultimi anni 60 pervenuto l'opera nel 66 o 68 però questa è una specializzazione è una particolarità e anche un soggetto che meritano di essere conosciuti anche da chi al momento non è ancora potuto leggere magari la tesi ma che spero che ce l'è comunque il libro e per tutti gli altri inediti invece troviamo anche moltissimi disegni questo è un tema particolarissimo che lui ha affrontato e raro perché ce ne sono solo due esemplari che sono quelli che vedete davanti adesso di due toni di lavoro e sono mini che voglio vedere anche su perché ci sono le firme in basso a destra quindi non abbiamo tutti perché in realtà sono quella stessa però abbiamo tantissimi altri disegni potremmo realizzati dei monumenti come possono essere questo che è San Francesco o il successivo che è un reto di Cristo vi parlo di un reto di un reto è una sterilizzazione dell'ultimo periodo la ritroviamo anche molte altre opere sicuramente un'opera che se avessi realizzata avrebbe fatto più o meno l'effetto della soluzione che avete visto poco prima ed è molto molto bella si tratta anche di un corso dei disegni di quel numero sono un puntone di domina quindi non sono poche divisi poi tra tutti i temi possibili perché abbiamo lo sport i sostanti metodologici la famiglia i ritratti i doni di maschile e femminili gli studi anatomici in cui era gravissimo gli scorci sull'esempio degli anni 28 per la regia con loro ha degli scorci anatomici quasi fotografici si tratta di un riorno molto alto perché abbiamo suddiviso con Francesco tutta per dell'Emp da quanto fa una pratica in mezzo per tutta l'estate però rimasta la pena e abbiamo anche dei prodotti privati normalizzati come questo della tomba MN tratto da un uccidio sempre per l'anno che porto al possesso della famiglia e grazie invece al lavoro che abbiamo fatto successivamente alla pesi abbiamo trovato due cartellette di documentazione fotografica di disegni in cui in monte c'era l'etichetta con il nome la data la disposizione di una scheda quasi completa altre invece portano anche dell'etichetta allora li sono messi a via li abbiamo guardati insieme quelle che rimanevano ancora offene perché c'era un po' di dubbio e questa l'abbiamo attribuita alla marcante assetata degli anni di troverso del 1922 probabilmente in questa ricerca diciamo ci darò appunto tramite queste cartellette di rivedere quello che ho scritto nella pesi e di dare una collocazione esatta alle opere che si credevano disperse e che sono effettivamente disperse perché poi Giuseppe Delgiri le rompeva le opere distruzioni a quelle che credevano non fossero più all'altezza altistica o a quelle che non dicevano più o a quelle primotivi disperse e quindi si può dire sicuramente che almeno di questa è dispersa però non abbiamo la prova fotografica in questa documentazione abbiamo trovato tantissimi disegni tantissimi documenti tantissime rete e ulteriori disegni di quelli e anche di foto di padelli di opere realizzate come queste negli anni del 63 dell'uomo che riceve la luce che ha capara della vecchia sede ma che pochi si ricordano penso non so quindi sarà quanti lo possono aver visto dal vivo questa foto l'ha fatta a tutti quindi penso che ad anni del 80 sempre 90 90 per gli ultimi anni che sta decidendo è un padello molto bello che speriamo che in questo questa sede è un campione aperto che ci sia la possibilità di tirare su fuori anche perché non è piccolino è bella impressione abbiamo trovato un'interessantissima foto che riguarda il bozzetto di un'opera di guerrieri datata a mia abbiamo acceso 34 da Solni circa Solni è il catalogo uscito nel 78 è il primo monografico che ci dà la possibilità e le più vocabili di attribuire una parte di carri dirigili su una delle ultime opere che si è stata attribuita nel 2012 dalla Chiara Posta in Cavaliere per una nuova attribuzione la torriremo al momento visibile invece a spina che è questo questo si può dire che sia una delle ultime opere attribuite sicuramente a dirigili e vedendolo anche un attimo prima nel bozzetto direi che la paternità è in dubbio ecco l'avrà aggiunto anche settimana ma il bozzetto ci dà la sicurezza matematica contro chi giustamente adesso forse la paternità del basso di rego finale che vedete adesso che opera sia assolutamente sua quindi nelle pubblicazioni che abbiamo avuto di costruire per i borsi grazie a queste opere di tutto quello che abbiamo trovato dei ricordi di chi c'è anche lavorato su a livello dell'epoca con alcuni dei parventi o con me di costruire il corpo sopra nella forma più completa possibile insomma questo mi auguro che mi ha fatto lo miglioro per te o per anche lì ma gli errori si possono fare ma cercherò di prenderlo in questo che mi sento intanto grazie brava grazie 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 ovviamente se non domande ne possono fare anche di grammatica per avere di solito non fare mi è capitato una volta scusate l'emozione sono le cariatidi che ti mettono in soggezione eh sì un pochino quella che mi guarda perché non c'è stato di mettere sull'uomo tutta la tutta il tempo se ne è cariati diranno così ma sono abbastanza mi scariati non fa domande molto stupendo c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Arianna o a Francesco o a professore non c'è problema mi pare che la presentazione sia stata esaustiva e poi ci lascia tutti in attesa di vedere il volume ecco si ha avuto in avuto si si quello sicuro me lo porto di persone da domani Arianna è già sotto il posto domani mattina appena sveglia bene se non ci sono domande io direi che possiamo proseguire la nostra giornata con una visita diverse di quelle cose che abbiamo visto la ballerina l'assunzione e altre cosine molto carine che dimenticavo prima oppure sono state anche donate al museo da privati cittadini che ce l'avevano in casa voglierezi regalini che ebbero da tuo papà durante gli anni amici di famiglia e così via hanno avuto il piacere di mettere le loro sculture in al museo quindi si trovano anche in questo museo alcune cose che sono private donate con cuore da privati come avete fatto esattamente ecco per chi vuole fare una sosta prima ristoratrice prima di andare alla mostra consiglio di salire la scaletta in pietra che è sotto il primo portico che trovate la scaletta in pietra lì c'è la sala la sala superiore chi vuole andare direttamente a vedere la mostra adesso sarà aperta e sarà aperta anche la terrazza del castello chi vuole andare a vedere il palazzo sulla terrazza del castello dove c'è anche lo stemma estense stemma estense che pare all'ospirato Virgili nella realizzazione dello stemma di Ferrara quello che è nella sala del comune di Ferrara come i due angeli letterali e là ci sono due punti là ci sono due punti invece i due angeli e lo stemma al centro era praticamente lo stesso schema del quattrocentesco stemma estense che c'è qui sopra al castello che potete andare a vedere grazie ci vediamo a presto